I dati di giovedì 28 gennaio ci parlano di una situazione di stabilità, segno che il decreto natale ha funzionato bene. Rispetto alla scorsa settimana si registra persino un miglioramento, seppur lieve, nei casi di covid. Meno 12%. Il numero dei contagi però resta ancora alto, così come la triste e orribile stabilità del numero dei decessi, sempre intorno alle 500 vittime al giorno. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano online Open, il direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano, il virologo Fabrizio Pregliasco, il quale si è detto inquieto per il passaggio di mezza Italia in zona gialla. Il virologo ha anche affermato che non possiamo fare come l'anno scorso quando in estate abbiamo assistito a un liberi tutti, che poi abbiamo pagato duramente nel corso della seconda ondata. Nell'estate 2021 saremo ancora nel pieno della campagna vaccinale che avrà sicuramente altri intoppi. Entro la fine dell'anno speriamo di arrivare all'immunità di gregge senza dover ricorrere all'obbligatorietà del vaccino. Sarebbe una sconfitta per tutti.